Ri-innamoriamoci del centro e il contest fotografico per animare il centro di Foggia. L'iniziativa di animazione territoriale è rivolta ai cittadini foggiani. I due selfie che riceveranno più cuori su Instagram riceveranno anche due buoni spese da usare nei negozi di Foggia che aderiscono all'iniziativa. Abbiamo sentito la necessità e l'esigenza di creare soprattutto sinergie positive tra gli operatori commerciali in un momento storico dove è indispensabile mostrarsi ed essere propositivi. E di fatti la risposta dei colleghi è stata in linea con le aspettative. Numerose di slancio, segno che c'è una grande voglia di ripartire e di fare squadra per la città. E con convinzione vogliamo ringraziare tutti i commercianti del centro di Foggia per non essersi sottratti all'iniziativa. Questo evento vuole essere l'inizio e il volano per la realizzazione di nuove iniziative che avranno anche delle ricadute sociali. Hanno dichiarato i due promotori del contest, Alessio Lusuriello, il presidente del CIV Conf Commercio, il grande centro, e il presidente dell'APS Libertà Civile, Alessandro Dagnone, inoltre il presidente anche dei giovani imprenditori della città di Foggia. Conf Commercio Foggia ha contribuito al coordinamento organizzativo dell'evento, a dimostrazione della capacità di aggregazione e di impegno verso le imprese del territorio. Nelle vie principali del centro di Foggia, da Corso Chairoli, a Corso Vittorio Emanuele, da Via Dante, a Corso Garibaldi, da Piazza Lanza, a Piazza Umberto Giordano, saranno posizionate delle postazioni instagrammabili, utili per la realizzazione di selfie e per partecipare al contest fotografico. Una volta scattata la foto, si dovrà postare nelle stories del proprio profilo, taggando la pagina social del contest. L'hashtag ufficiale è RINAMORIAMOCI DEL CENTRO FG. La scadenza è il 19 febbraio per la pubblicazione delle foto. Le foto saranno pubblicate e chi riceverà più cuori riceverà il premio, che consiste appunto in buoni sconto da 50 euro da usare nei negozi aderenti all'iniziativa. I buoni saranno usufruibili entro e non oltre il 28 febbraio.